La D-Consum, promossa dalla CISL, è l'associazione che opera al fianco del consumatore cittadino. In 30 anni ha raggiunto importanti obiettivi, contribuendo alla realizzazione di un mondo su misura per il consumatore nell'economia che cambia. È merito della D-Consum l'avere introdotto la conciliazione paritetica nelle controversie tra aziende e consumatori ed è l'unica associazione a gestire il progetto CEC, Centro Europeo Consumatori Italia, il cui scopo è la diffusione di informazioni relative alle norme interne e comunitarie, ma anche di aiutare il consumatore nelle problematiche legate agli acquisti trasfrontalieri. Così come è l'unica associazione che svolge funzioni di gestione del Fondo Usura per la tutela delle sempre più numerose famiglie sovraindebitate. La D-Consum tutela i consumatori nei settori che vanno dalla telefonia all'energia, dall'alimentazione all'ambiente ed ha il grande obiettivo di essere sempre vicino al consumatore per informarlo, educarlo e renderlo più consapevoli dei suoi diritti, dei suoi doveri e delle varie forme di tutela di cui può disporre. Per questo numerosi sono gli strumenti utilizzati per essergli al fianco, come i social, il rinnovato sito internet, la rassegna stampa, il bimestrale usi e consumi, le newsletter e la collaborazione con aziende di ogni settore, con le quali vengono attivate campagne di sensibilizzazione legate alle svariate e molteplici problematiche consumeristiche. E se da un lato a D-Consum informa i consumatori, dall'altro li tutela, per mezzo di azioni di controllo che effettua sull'operato delle società ed in caso contrario inviando le dovute segnalazioni all'antitrust, come nel caso delle Fidelity Card, o chiedendo l'intervento governativo, come nel recente caso del telemarketing aggressivo. Grazie alle 150 sedi dislocate in tutto il territorio nazionale, all'interno delle quali i suoi operatori sono in grado di dare soluzioni concrete, di rispondere alle tante problematiche e soddisfare le molteplici esigenze dei consumatori, e grazie ai quali si sono sostenute numerose battaglie e tante altre dovranno ancora essere affrontate. Per mezzo di un numero verde gratuito e per i più tecnologici con un'apposita applicazione A D-Consum ha acquisito un ruolo importante sul piano dell'educazione sociale, della sensibilizzazione e della responsabilizzazione dei cittadini ed è qualificante e presente grazie alla capacità di spaziare su diverse tematiche. A D-Consum promuove accordi con imprese che hanno il primario obiettivo di tutelare il consumatore e l'ambiente che lo circonda. Si adopera affinché vengano rispettati i protocolli di sicurezza sui prodotti messi nel commercio finalizzati alla tutela del consumatore ed affinché le aziende eroghino servizi chiari e trasparenti che escludano clausole vessatorie soprattutto per le fasce sociali deboli. Sta creando rapporti di collaborazione con imprese che restituiscano al territorio che le ospita iniziative di sviluppo, riqualificazione urbana e crescita sociale. Per i prossimi 30 anni la priorità di D-Consum rimarrà sempre il consumatore.